Ma quanto spendo in una settimana a Dubai? Io sono Michael Pino e al momento abito a Dubai abbastanza fuori dal centro e infatti una delle spese principali quando si esce è il trasporto. Circa un anno fa mi sono trasferito qui, ho già fatto un video in cui facevo il tour della casa e scade il contratto di affitto a breve quindi mi trasferirò un po' più in centro per fortuna poi non mi piace molto guidare e quindi il taxi è una delle spese più alte. Nonostante a Dubai il taxi costi relativamente poco. Facendo un recap di tutte le mie spese le ho suddivise in costi fissi, cibo, trasporti e svago. Faccio nella maggior parte dei casi colazione e pranzo a casa perché lavorando da casa non ho praticamente bisogno di uscire anche se capitano situazioni o settimane in cui faccio molto lavoro in giro quindi magari vado in qualche Starbucks, in qualche co-working e quindi anche in quel caso ho deciso di ritagliare dei pezzi per farti capire quanto si spende in quelle situazioni. Solitamente inizio la mia giornata in palestra, non pago un abbonamento perché qui a Dubai quasi tutte le case hanno incluso palestra e piscina. Al momento l'affitto è di 1100 euro che comprende anche le bollette. Parlando di costi fissi, quello che spendo principalmente è wifi, 100 euro al mese e internet per il telefono oppure chiamate 50 euro al mese. Sì, la sim a Dubai costa tantissimo rispetto a quello che costa in Italia. Come ti dicevo colazione la faccio a casa nella maggior parte dei casi e può variare da yogurt con cereali a uno smoothie di frutta oppure magari pane marmellata e comunque la spesa si aggira sotto l'euro al giorno. Quindi in media per colazione possiamo dire 50 centesimi. Anche il pranzo nella maggior parte dei casi rimane a casa e quindi mi faccio un piatto di pasta, un secondo o quello che c'è in frigo e quindi anche in quel caso siamo circa su 1 euro al giorno e sto valutando facendo questo video che mangiare a casa o comunque vivere molto cheap si può a Dubai. Di solito riuscivo a spendere tra i 100 e i 300 euro al giorno facendo veramente cose basilari e quindi in questo caso sto capendo che si può evitare di spendere quelle cifre. Ma bando alle ciance passiamo alle cose più divertenti quindi basta stare in casa tutto il giorno a mangiare o a lavorare vediamo cosa si spende a Dubai per uscire. Come detto principalmente mi muovo con il taxi ed essendo che abito molto fuori circa 40 euro al giorno tra andata e ritorno partono via che può sembrare tanto può sembrare poco però il taxi qui è veramente economico. Confido nel fatto che cambiando casa mi avvicinerò al centro e spenderò molto meno anche di taxi. E se ti interessa approfondire anche l'argomento della casa nuova perché l'ho scelta dove l'ho scelta magari fammi sapere nei commenti che sicuramente ci posso fare un bel video. Ci sarebbe anche la metro che è molto più economica del taxi in alcuni casi richiede più tempo e spesso non arriva o non parte da situazioni che mi sono comode e quindi evito perché mi fa perdere un sacco di tempo anche se nell'ultimo periodo abbiamo provato a prenderla in alcuni casi io e la mia ragazza molto più economica ma veramente un sacco di casino affollatissima e veramente tempo perso. Tornando sul cibo ma non in casa quindi nei ristoranti o luoghi all'aperto varia molto dal tipo di ristorante ci sono i ristoranti italiani che sono molto buoni alcuni sono anche abbastanza economici altri molto di fascia più alta e costosi oppure tantissime tipologie di ristoranti. Spesso si riesce a mangiare fuori anche con solo 10 euro a persona se si va per esempio al libanese che è veramente buonissimo a mangiare hummus, carne per chi piace oppure altre cose tipiche oppure come dicevo dipende dal tipo di ristorante si può spendere 20 euro a testa, 40 euro a testa, 100 euro a testa a salire. L'ultima volta che sono andato per esempio da Burak abbiamo speso circa 70 euro a testa quindi dipende molto da cosa si vuole mangiare e anche dalla figaggine dei ristoranti. Capita anche che vado a degli eventi crypto non dico ogni settimana però capita questa settimana per esempio c'erano tre giorni di evento e sono andato ovviamente era un evento a pagamento quindi dipende anche in quel caso se è un evento che pago, se è un evento gratuito o se è un evento a cui sono invitato e quindi riesco a scroccare il cibo oppure è incluso nel biglietto che ho pagato. Però spesso in alcuni eventi si riesce a scroccare di tutto e di più quindi da colazione, pranzo a cena veramente. E per lo svago anche qui dipende molto da quello che si fa. Io come minimo circa sto facendo una volta a settimana di calcetto e il campo costa circa 100 euro l'ora anche di più e quindi se si riesce a dividere si paga veramente poco. Come attività serali si può fare una passeggiata tranquillamente a JBR che non costa nulla, cammini diciamo in lungomare oppure spesso si va in qualche locale a chiacchierare e comunque non vendono nella maggior parte dei casi alcol cosa positiva e quindi vai a berti un soft drink magari. Oppure altre attività serali o comunque che mi vengono in mente sono magari i laser game che facciamo ogni tanto dovrebbe costare circa 25 euro a persona e anche se sono scarso sto cercando di migliorare altrimenti ci sono magari i go-kart dovrebbe costare 40 euro a persona per circa 15 minuti molto divertente anche se col caldo di Dubai spesso è un massacro che esci bagnato come se fossi entrato in piscina. Quindi dipende molto da quello che si fa e quanto si fa. Io mi sono trovato in delle settimane in cui spendevo di media 100 euro al giorno quindi alla fine della settimana puoi dire che spendi 700 euro oppure mi sono trovato delle settimane che spendevo 300 euro al giorno quindi superavi la settimana con più di 1000 euro a settimana che può sembrare anche un po' tantino dipende ovviamente quello che si vuole fare. Io naturalmente cerco di stare molto più contenuto anche perché ho tanto lavoro da fare e quindi già uscire, svagarmi o stare molto veramente in giro mi toglie il focus dal lavoro quindi dipende anche un po' da quello che vuoi fare. E ho notato anche in alcune settimane in cui uscivo molto più spesso che il focus era molto più basso. Capitavano delle sere in cui si andava a ristorante magari tutti i giorni oppure a volte anche a pranzo e un'altra cosa che volevo aggiungere per la parte di costi è che spesso quando mi ritrovo appunto a lavorare in uno Starbucks oppure a stare tutto il giorno fuori per lavoro e magari si girano questi Starbucks o altri luoghi comunque ci sono veramente dei luoghi molto molto belli in cui anche di fronte al mare puoi metterti tranquillamente a lavorare e in quel caso circa tra i 5 euro per caffè o cappuccino perché a Dubai è anche abbastanza costoso rispetto all'Italia oppure ti prendi un'acqua che comunque sei sui miei gari 3 euro e non costa nulla ma hai un posto diciamo dove lavorare hai un wifi gratuito a cui connetterti e puoi stare in focus a lavorare in un luogo che non sia il tuo solito ufficio o casa. Quindi in media quanto spendo in una settimana? E appena passata tutta una settimana ho fatto il calcolo ho tenuto traccia di tutte le mie spese ed ecco quanto ho speso per costi fissi sarebbero 300 euro a settimana calcolandoli in abbonamento mensile vogliamo dire perché c'è dentro l'affitto c'è dentro il costo di internet wifi e la sim del telefono per il trasporto questa settimana ho speso 300 euro di taxi e 12 euro di metro perché è capitato un paio di volte che abbiamo preso la metro che è molto ma molto più conveniente per il cibo questa settimana ho speso 363 euro considerando solo le spese fuori casa e non la spesa proprio effettiva di quello che ho mangiato anche a casa altrimenti ci possiamo aggiungere veramente pochi euro in più ma comunque comprende colazioni, pranzi, cene, merenda qualsiasi cosa che ho fatto fuori perché ovviamente a volte andavo a cena a volte andavo a pranzo a volte facevo tutta la giornata fuori e a volte andavo semplicemente a colazione per il cibo si può calcolare diviso due perché esco sempre con la mia ragazza e ovviamente mangiamo in due quindi più o meno per il costo del cibo si può considerare 180 euro a settimana mangiando fuori per lo svago questa settimana non ho fatto nulla di particolare non sono andato nel calcetto, ne ho fatto laser, ne ho fatto go kart niente di niente però possiamo considerare l'evento crypto a cui sono andato che ok non era svago ma può ricoprire più o meno similmente la cifra evento di tre giorni per quanto riguarda Algorand 250 euro di biglietto anche se sono andato solo un giorno questa è stata una settimana abbastanza normale per quanto riguarda la media di quello che ho fatto considerando appunto che c'è stato di mezzo il mio compleanno e quindi una cena l'ho offerta io però altri pranzi mi sono stati offerti perché era appunto il mio compleanno quindi facendo una media queste sono le cifre esatte quindi ruolo di tamburi spesa totale della settimana 1200 euro può sembrare tanto come può sembrare poco io per fortuna ho uno stile di vita abbastanza pacato e con quello che guadagno riesco a permettermelo senza problemi potrei ovviamente evitare di spendere tutti questi soldi per investirli ma già investo veramente il 90% di quello che guadagno e quindi ogni tanto qualche sfizio per staccare un po' e far respirare il cervello e non solo ci può stare fammi sapere nei commenti che sicuramente avrò dimenticato qualcosa quindi qualche spesa che secondo te è interessante magari rispondo qui sotto nei commenti o fammi sapere anche tu quanto spendi in una settimana nel paese in cui vivi e naturalmente visto che viaggio spesso e soprattutto gli ultimi due anni li ho fatti da nomade digitali in giro per il mondo fammi sapere se ti interessa sapere anche quanto spendo in un determinato posto sono stato a Bali sono stato in Thailandia sono stato in Singapore e tantissimi altri posti e quindi magari faccio anche una serie in cui parlo di quei posti per vedere quanto si spende lì per vivere per fare qualcos'altro per divertirsi per mangiare eccetera eccetera grazie per essere arrivato fino a qui io sono Michael Pino iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto metti un mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao